Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani-Calsolari. Buongiorno a tutti! Eccolo qui, buongiorno a Marco! Analogici e digitali, e anche Ingrid ovviamente. E vai, mettiamoci dentro tutti. Allora, siete in panne con il vostro computer, oppure non vi raccapezzate più con tutte le funzioni del cellulare che vi hanno appena regalato, non c'è problema, scriveteci a nomattinainfamiglia.it oppure mandateci un'email a nomattinainfamiglia.it oppure scriveteci su Facebook o su Twitter. E allora, Marco, pensavo a quanto con l'avvento della digitalizzazione aumenti in un certo senso la possibilità che la finzione superi effettivamente la realtà. È vero, è vero, è vero. C'è una serie televisiva che ha trattato questo tema, cioè quello dei punteggi alle persone reali, fisiche. In che senso? Cioè la possibilità di votare qualcuno e quindi di dare un voto, così come lo si dà a un hotel quando vai in vacanza su alcuni siti, nello stesso modo si può dare, secondo la finzione di un film, no? In quel caso. In questo caso qualcuno ha realizzato davvero questa applicazione. Che è abbastanza inquietante, perché puoi dare, con questa applicazione che si chiama Rate Me, Rate Me, puoi dare un voto ad un amico, a qualcuno che conosci, tra 1 e 5 stelle, e deriva appunto, come dicevo, da questa serie che si era... In base a quale criterio? In base a quale criterio è soggettivo, no? Perché ad esempio, per certi aspetti potrebbe far pensare che io vado, non so, uno sportello di qualcosa, mi trattano bene nello 5, mi trattano male ne do una, e lì ci può stare. Ma si aprono una serie di interrogativi. Se mi sei semplicemente antipatico, ti do un voto negativo. È venita. Capito? Magari quello è bravissimo. Oppure banalmente, se voglio fare qualcosa di scorretto nei confronti di qualcuno. Quindi, davvero è abbastanza inquietante lo scenario che potrebbe scaturire da un'eventuale, credo improbabile, diffusione di applicazioni di questo tipo. Ecco. Beh, va bene. Passiamo adesso al nostro interessante sportello digitale. Allora, sentiamo quale altra indicazione il nostro Prof 2.0 ci darà oggi, insomma, che ci offre appunto il mondo digitale. Allora, oggi è possibile monitorare monitorare le proprie malattie, l'andamento delle analisi, le terapie da seguire anche da casa, grazie alla teleassistenza. In sostanza... Interessante. Certo, perché chi versa magari in condizioni di necessità, magari appunto ha necessità medica, aiuto, eccetera, può andare sul sito della propria regione, l'esempio di tre regioni sono www.comune.milano, sono comuni anche, no? che in sostanza permettono di attivare la teleassistenza. Basta andare appunto sul sito, cliccare su cerchi e poi scrivere teleassistenza. In sostanza è una sorta di modello di assistenza socio-sanitaria che però utilizza la tecnologia a distanza. E direttamente da casa si può davvero fare del bene a chi non si può muovere. Ci piace molto. E tra le tante bizzerie del web, capita a volte che un fattore realmente accaduto venga, beh, trasformato un po' in una bufala, Marco. Brava, brava. Perché si arriva tanto? Vedi, vedi, c'è chi vuole divertirsi così, no? A diffondere bufale. In questo caso si tratta di una bufala perché non ha fatto danni a nessuno. C'è un video che ha circolato, quindi non è una truffa, no? O una fake news, eccetera. C'è il video di questo cerbiato, capriolo, no? Che è in sostanza nel mare della Maremma, a cale di forno, così, hanno detto. Un cerbiato, guarda che carino. Bellissimo, perché è proprio un giovane cerbiato che si diverte con le onde, no? E quindi si diceva che il video è vero, ma che fosse stato girato in Maremma, a cala di forno. In realtà questo video è stato girato, nel 93 addirittura, in Francia, da un documentarista che... ...si chiamava Anthony Martin, che stava proprio girando un documentario su questo, no? Per cui... Certo, è curioso vedere un cerbiato... È curioso, però non era lì. ...tra le onde del mare. Però era vero, eh? Quello non era una ricostruzione. Però era vero. Bisogna sempre fare attenzione, perché in questo caso non ha fatto male a nessuno. A volte può creare qualche problema. Anzi, spesso. E a proposito di video curiosi, quale altra chicca hai scovato in questa settimana, caro Marco? Ma guarda, carinissima questa cosa, no? Dove ci sono delle sedi attaccate al muro, sedi al tavolino, eccetera, che sembrano dei quadri, no? Adesso me ne faccio vedere. Sembrano dei quadri e quindi tu li vedi e dici, oh che bella installazione artistica. Vedete qui dietro? E in realtà poi a un certo punto lui arriva, lo prende e diventa in 3D. No, non si credo. Guarda, eh? Cioè lui diventa funzionale? Lo prende dal muro, esatto, e diventa, vedi, diventa vero. Quindi quadro che funziona, che serve davvero. E sono disegnate da questa artista coreana che si chiama Yonga Choi, chissà come l'ho pronunciata. Ma comunque è davvero geniale. Sì, non male. Sì, nelle case piccole, perché in uno spazio appendi la sedia al muro. Nelle sedie, ai tavoli, quant'altro. Appendi le cose al muro, esatto. Esatto. Che una volta voleva dire No, non è male. Lascio perdere. Esatto, una volta. Si diceva il cappello al chiodo. Al chiodo, quello lì era... Vabbè, un'altra cosa. Non ci avventuriamo. E allora adesso è arrivato il grande momento più atteso, il momento tutorial, perché oggi oltre alle funzioni, grazie alle funzioni dei cellulari, tutti noi ci improvvisiamo dei provetti fotografi, quante foto facciamo. Però oggi Marco ci insegnerà dei trucchi per fare addirittura dei virtuosismi fotografici. Noi avremmo voluto portare un drone, ma poi ci siamo interrogati e abbiamo detto Oddio, quanto costa? Ma non c'è un modo migliore per farlo? E allora a un certo punto ho detto Aspetta che forse un'ideuzza c'è. Si prendono dei palloncini, si gonfiano di Elio, che è più leggero dell'aria e quindi, no? Si attaccano dei fili da pesca alla custodia del tuo smartphone, vedi? E poi lo metti in posizione selfie. C'è una roba proprio facile facile. Si compra uno di questi, ma si trovano davvero ovunque, sono quelli, gli stessi dei selfie stick, costano 3 euro, questi telecomandini Bluetooth, che colleghi a lui. Quindi facciamo la prova del palloncino adesso. Adesso proviamo, vai, la prova del palloncino noi non beviamo. Per cui è tutta acqua, ci trovano l'acqua gazzata. Siamo così naturalmente noi. Ecco qua, esatto. Vai, e quindi scatto, eh? Oh, un po' di foto, vai. No, vabbè, stiamo facendo le foto. Il drone casalingo e soprattutto economico. No, vabbè, ma solo tu. E vedi, al posto di spendere soldoni, perché i droni costano un mucchio, eh? 400 euro, invece con questo un palloncino e via. Guarda! Guarda qua, che belli. Possiamo continuare fino a domani, ma forse è il caso di andare avanti. Vabbè, lo possiamo pure lasciare. Tanto il cellulare di chi è? Ah, giusto. È tuo. È tuo? No, è mio, è mio. E allora andiamo avanti. Bravo Marco, ci stupisci sempre. Eh, vabbè, divertiamo un po'. E leggiamo la mail di Valeria che scrive Conosciamo bene gli altri costi degli accessori originali, no? L'alto costo del telefono, dei pc, dei tablet, eccetera. Però non dirà, doviene la tentazione di acquistarli non autentici. Ce lo consiglia? Oppure rischiamo in qualche modo di danneggiare i nostri prodotti? Dipende. Il vero problema... Perché risparmiamo da una parte, però poi dall'altra... Danneggiare non so, ma molto spesso il vero problema è che non funzionano. Perché la batteria non carica bene, si rompe subito, prende fuoco, proprio banalmente non fa caricare lo smartphone se è una batteria, o la custodia che non si chiude bene. Alcuni però di questi accessori sono certificati, quindi non sono gli originali certificati come non autentici. Dalla marca che dovrebbe invece, che vende anche i propri. E quindi certifica, non tanto i non autentici, certifica gli accessori costruiti da terzi, che però sono ufficialmente funzionanti. Quindi possiamo risparmiare in un certo senso? Certamente. Però il danno non mi viene in mente in questo momento, ma di solito il vero problema è che funzionano male, o non funzionano, una volta per qualche euro in meno si buttano via i soldi. Ecco. E adesso, beh, andiamo avanti, perché quante volte, no, la nostra memoria fa un po' le bizze, per esempio guardiamo un film e non ci ricordiamo il nome di quell'attore, almeno a me capita spesso, non so, a voi. E allora adesso, beh, il nostro Prof 2.0 ci consiglierà un modo per risolvere anche questo piccolo problema, che in realtà non è tanto piccolo, perché poi quanto ci nervosiamo. No, beh, però è fantastico. La tecnologia... Che non riusciamo a ricordare il nome degli attori che stiamo vedendo in quel momento. No, bravissima, bravissima. La tecnologia, infatti, fa delle cose straordinarie, ma è per quello che ho questa passione, no, perché ti permette veramente di cambiare il modo in cui vedi il mondo, il modo in cui riesci a fare delle cose. Pensa ad esempio a quell'applicazione che è abbastanza nota, che si chiama Shazam, e che permette di ascoltare della musica e sentire, capire di chi è. E hanno fatto la stessa cosa per gli attori. In sostanza, questa applicazione serve per inquadrare lo schermo. Ma si può dire che è una figata pazzesca? È una cosa pazzesca. Praticamente inquadri lo schermo e dici, ma chi era questo attore qua? Lui capisce, no, di cosa si tratta e di conseguenza ti dice il nome, perché riesce a riconoscere la faccia. Vogliamo vedere però come funziona? Facciamo una prova? Sì, è che il telefono mi è rimasto attaccato al palloncino. No, vabbè, ma qui non a caso, guarda chi c'è. Avrei voluto... Guarda, quello lì viene fuori, Marco Camisani Calzolari. Vedi? Ma infatti... Tieni con i palloncini, vai Marco. Allora, andiamo a inquadrare, vediamo chi viene. Sono io. Oh, madonna, no. Non sono io, no. È che ha un problema quel ragazzo. Ma ti somiglia. È vero o no che gli somiglia? Quando vai in giro lo fermano e gli dicono sei Marco Camisani Calzolari, lui? È il nostro Brad Pitt. Ok, e quindi, e quindi, e quindi, e quindi, e quindi andiamo alla grande. Bello, bello, bello. Ti piace quindi questa cosa dell'applicazione così? Sì, sì. Bella, eh? E quindi? E quindi niente. È andato? E quindi è andato il cellulare, è partito. Va bene, grazie. Allora, è arrivato il momento dei saluti, ci vediamo sabato prossimo. Grazie a Marco Camisani Calzolari che potete ritrovare, se volete fare delle domande, curiosità e quant'altro, trovarlo su Facebook. Marco Camisani Calzolari, l'originale. Grazie. Grazie a te. Mi hai fatto morire oggi.